Amici, bentornati a un nuovo gameplay di GTA 4 Allora, io direi di vederci subito alla missione Vai indietro! E' la biera lì No, vai dal corpo che è sparito Ok, dobbiamo procurare un mezzo di trasporto e direi di avercelo Andiamo subito al punto Siamo arrivati Abbiamo portato il fattone Spero che questo trucco non sia troppo pesato per me da portare a me stesso Sì! Yo, signor Bankerman Questo è un'investimento di reale sound che stai facendo Un buon uso dei tuoi assets e s***** A più profondo Ok Dobbiamo riportarlo indietro Sì! 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 No! Non importa Qui c'è alcuni dollari Sì! 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 Oh! Sei tutto bene? Tu sembra un po' tante. Sì, scusate, sono solo giusti. Mi fa un po' pent up. Giusti? Sì. Bull shark testosterone, amigo. Oggi è messo in linea da Chile. Mi fa sentire davvero male. Be careful, man. Mi sento che ci sono cose fatti 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 a te. Sì, mi sembra che ho fatti 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 a te? Non ho pensato. Mi senti un messaggio. Cosa vuoi? Voglio help! Mi perdono il plato qui! Cosa. Sì, scusate, man. Sì, guardate. Sei davvero bene con questo trucco. Molte persone sono molto gravi. Sì, ascolti. Lio ha un caro per la stella. Puoi lo capire? L'ho lasciato in un alliway off of Yorktown Avenue in Steinway. Se ti pagano come l'ultima volta, non problemi. Sì, ovviamente. Cosa rischi? No. È facile come sia. Andiamo da Yorktown Avenue. Sì, è ave. E' l'auaua. Ah 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 ah. Quattro... Sfaticato. Guarda! Ok. Parcheggiamo. Ah, svolta l'angolo e raggiungi l'au. Adesso l'alline, adesso l'alline. Ehm, è uguale, no? Sì. Dobbiamo salire su questa? Non c'è rischi, Brucey? Non c'è rischi, brusy? Sì. Di steroid aveva preso. Ti vede che... Aia! Trappola! Io avrei paura. Scappa, scappa. Cos'è sta macchina che dobbiamo... Oh! Quanti! No! Non farmi ste cagate! Allora, ragazzi, dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare veloci, in fretta. No! Oh, cosa vuol dire questo? È mo? È mo te rompo, se non ce la fai! Ma se è girato male! Mi fai tutto! Eh, ma lo rifaccio. Come faccio? Ho uso il cellulare. Un messaggio, un messaggio. Allora. Arriva in là, dai. Ci vediamo là, ragazzi. Ci vediamo, raga, che devo prendere la macchina. Oh, raga! Siamo... Eccoci tornati. Allora, dobbiamo rubare la macchina. Per riportarglielo. Dobbiamo stare attenti che arrivano gli scagnozzi. Ok. Scappiamo. Non so da dove... Non... Qua ci deve essere un'altra macchina che mi spara. Ok. Ce la facciamo adesso. Guido meglio. Prima l'avevo preso qua. Sono salito sopra sta merda. Per quello sono andato a finire i ruoli. Ok, raga. Ci stiamo. Vedi che sto guidando bene. Ok, dai, dai, che ce la possiamo fare. Dovamo raccontare delle anguie. Brucci ha chiesto di portare questo. Sei fortunato che sembra così buono come lo fa. L'unica cosa che Brucci pensa sia buono di sembra è lui stesso, nel occhio. Grazie. Missione completata. Brucci. Perfetto. Adesso dobbiamo aspettare un altro messaggio, raga. Raga, missione completata. Direi salutarci per la prossima puntata. E ciao. No Grazie per la visione!